Buongiorno e benvenuti a questa è la serie stampa di oggi 7 dicembre, scusatevi un po' in ritardo in effetti, però oggi me la sono presa un po' calma, si fa per dire, un po' di tempo per me. Guardate la cosa più divertente di oggi, spero che il mio roaming e il mio abbonamento riesca a reggere questa diretta, perché la cosa più bella, straordinaria di oggi è Marco Travaglio! Toc toc! Ve lo ricordate? L'intransigente Marco Travaglio, l'uomo che ci ha spiaccato che la riforma di Bonafede sulla prescrizione sacrosanta e che tutti quelli che sono contro quella riforma sono decornuti. Toc toc! Sapete che cosa scrive oggi Travaglio? Beh, è stupenda. Siccome qualcuno gli ricorda, in effetti io non l'ho mai fatto, però è una cosa che tutti quanti noi sappiamo e che lui ha invocato la prescrizione per una causa che gli ha fatto prebiti per difamazione, oggi ci racconta come funziona. Perché è interessante questa cosa? Non perché ce ne importi nulla di Travaglio, ma perché è sempre così. L'evasore è sempre il tuo vicino, quello che gode della prescrizione è sempre il tuo vicino, quello che butta le scicche a terra è sempre il tuo vicino, quello che inquina è sempre il tuo vicino. Tutti i fenomeni, tranne i moralisti, che sono i peggio di tutti. Il tipico moralista col codice di procedura penale in testa che gli divide i due neuroni, diciamo che la parte collosa o callosa che dipende l'emisfero destro dall'emisfero sinistra del nostro cervello, beh, quella parte callosa del suo cervello è fatta da un codice di procedura penale e lui dice quando io ho scritto un pezzo su prebiti che mi ha querelato per difamazione ero un freelance dell'espresso, poverino. E poi in realtà me l'hanno tagliato in redazione, quindi non è colpa sua se è stato diffamato. E poi ho avuto in primo grado una pena esagerata. Poverino, la pena esagerata. Vorrei ricordare che uno è stato arrestato, che si chiama Sallusti, per diffamazione. E poi sono stato difeso dall'avvocato dell'espresso. Guarda caso, quest'avvocato grosso era il più grande avvocato. Cioè, non stiamo parlando di un avvocatino, ma poi ha ricorso, dopo che sia stato condannato in primo grado, in secondo grado, ha ricorso grosso in Cassazione e scrive Travaglio e siccome il reato era prescritto, ha chiesto l'annullamento in primis della condanna e in secundis, in subordine, l'utilizzo della prescrizione. Quindi il suo avvocato chiede prima di annullare la condanna e poi la prescrizione eventualmente, cosa che fanno tutti gli avvocati. Toc toc! Vorrei ricordare a Travaglio che non tutti fanno così. Tra poco lo diremo, perché lui poi dice io sono soltanto un cittadino privato, non sono un politico. Perché mi ricordo un signore che si chiama Marco Tronchetti Provera, l'odiatissimo Marco Tronchetti Provera, che è indagato dalla procura di Milano, ha rinunziato alla prescrizione e con lui me ne ricordo di tanti altri che rinunziano alla prescrizione, ma non Travaglio. L'uomo che odia la prescrizione la utilizza per se stesso e chiede il suo avvocato di essere prescritto. E Travaglio dice poverino, ma non l'aveva concordato con me l'avvocato di chiedere la prescrizione. Cioè tu mi stai dicendo, un saluto da Malta a Malta anche te, tu mi stai dicendo che l'uomo che fa il moralista contro la prescrizione poi dopo che cosa fa? Si arrabbia perché il suo avvocato gli chiede la prescrizione a sua insaputa, come scaiola sulla casa. Insomma, a sua insaputa. E anche Travaglio è stato prescritto a sua insaputa. In realtà non è stato prescritto perché la Cassazione lo ha condannato e non ha utilizzato neanche la prescrizione dicendo che non si potesse fare. Perché questa cosa mi fa impazzire? Perché lui dice io sono un privato cittadino e posso fare quello che voglio? E c'è qualche privato cittadino, Tronchetti Provera, che non ha fatto quello che voglio. E poi dice la diffamazione per i giornalisti è come un tamponamento per i tassisti. Sì, con un piccolo dettaglio, che se il tassista è ubriaco mentre tampona va in galera. Invece Travaglio, quando viene prescritto, non solo fa il moralista contro la prescrizione, non solo si appella alla prescrizione, non solo fa tutta questa roba qua, ma piagnucola dicendo è un incidente sul lavoro la diffamazione. Io sono assolutamente d'accordo con lui che sia un incidente sul lavoro la prescrizione, però, insomma, per l'onestà, l'onestà, il purista dei puristi mi fa impazzire. Il PM Ielo, per andare alle cose serie, oggi sul sole 24 ore, dice per battere l'evasione l'inasprimento delle sanzioni non serve a nulla. Questo è il governo delle manette agli evasori, il PM forte, duro, durissimo di Roma sostiene che l'aumento delle sanzioni non servono a nulla. Andiamo sull'economia, due notizie fondamentali, all'Italia arriva il super commissario! In realtà era, ue ue, no, cos'era? Der commissare, ve lo ricordate quella canzone là di Falco? Sembra che arriva Falco in all'Italia! Der commissario! Non servirà a nulla, a una minchia! Perché i bravi manager già ci sono in all'Italia, ci sono dei fior di manager che stanno rendendo l'Italia più puntuale, che stanno rendendo l'Italia... Il problema è che è un'azienda che non può comprare un aereo, non può cambiare una classe, non può definire una rotta, cioè se all'Italia non capisce cosa può fare nei prossimi 15 anni, a che cazzo servono i commissari? A zero! A pagare a degli avvocati, cioè i commissari, uno stipendio. Meglio Falco, esatto, Gianpaolo, saluto Gianpaolo Serino, Der commissari! Oh oh! Invece in Ilba, l'altra cosa straordinaria, volevamo far fuori Mittal, che vuole far fuori 5.000 persone, nel frattempo ricorda il sole che fra 5 giorni c'è la procura di Taranto che probabilmente chiuderà l'alto forno numero 2, esattamente quello che voleva fare Mittal, ma c'è una procura che gli dice non la puoi fare! Ma se lo fai il magistrato va bene, se lo fai invece Mittal non va bene, questo è il paese in cui comandano i magistrati, magistrati non più prescritti, o meglio loro tanto che gliene frega. Il Censis chiede, in una sua richiesta analizzata da tutti quanti, il 48% di italiani sono attratti dall'uomo forte, e te credo! Non fate come Repubblica, oggi Guido Crainz dice, profonda deriva, non è che vogliono Mussolini, non vogliono il fascismo, vogliono qualcuno che risolva i problemi, ci siamo rotti le palle del fatto che siamo incastrati in miliardi di norme, miliardi di regole, miliardi di tasse, per cui non si riesce a fare nulla. Toc toc! Il Ponte Morandi come l'abbiamo fatto? Con l'uomo forte, il nuovo Ponte Morandi, scusatemi il vecchio, l'abbiamo fatto uccidendo 43 persone, il nuovo viene fatto commissariando di fatto quella stazione appaltante. Matteo Renzi, quando parla di un piano infrastrutturale shock, cosa vuole? L'uomo forte, una serie di uomini forti che si occupino del commissariamento sostanzialmente di un'Italia, incapace di fare alcunché, grazie a un codice degli appalti, by the way, che ha fatto lo stesso Renzi. Le Sardine rispondono a Sallusti, non vale neanche la pena, secondo me, di citarle, perché Sallusti gli risponde da buon, voglio dire, razionalmente. A Sardì, ma che volete? Ma qual è il vostro programma? Ma che state a di? Non basta riempire le piazze, ha perfettamente ragione. Nel frattempo, la manovra finanziaria è una truffa, come dice qualcuno, oppure manovra, gioca d'azzardo, come dice Repubblica, per il semplice motivo che le tre tasse, simbolo di questa manovra orrenda, e cioè, la plastic tax verrà rimandata a luglio, lo zucchero ad ottobre, e non si sa che fine faranno le tasse sulle auto aziendali. Insomma, su queste tre tasse, probabilmente, l'unica cosa che sono riusciti a fare è rimandarle, ma si risolvono le questioni rimandando un'imposta, poi entreranno, noi saremo al mare, non ci renderemo conto della minchiata che stanno facendo. Secondo voi, un'azienda che deve produrre quest'anno, può pensare, oh, entra, non entra, come entra, questa tassa in vigore, che comunque sta ridotta a 40 centesimi, cioè il senso è che la tassa c'è, l'hanno rimandata e con questa si puliscono la coscienza oggi, non domani quando entrerà, è una roba da matti, da matti, rimandare una tassa e dire che entra in vigore a luglio vuol dire mettere una tassa, non vuol dire toglierla, è chiaro? E quando questi mi dicono che vogliono l'uomo forte è perché si sono rotti le palle di questi vertici, queste maggioranze, queste inutile capacità di governo, per cui neanche hanno il coraggio di mettere delle orrende tasse, ma le mettono oggi ma le fanno valere a luglio, vi rendete conto? C'è una persona normale dice ma ci state a prendere il culo? In effetti oggi mi sembra molto bello il pezzo sul Corriere della Sera che ci spiega che questo governo giallo-rosso ha fatto un vertice ogni 14 giorni, non ha neanche 100 giorni di vita, ha fatto 24 vertici di maggioranza e 15 consigli dei ministri, cioè questi si hanno fatto i vertici e che cosa partoriscono nei vertici? Rimandare le tasse, fantastica la battuta che oggi riprende Verde Rami sul Corriere della Sera Giorgetti incontra Franceschini alla camera sembra una barzelletta e gli dice a Franceschi le cose vi vanno male e Franceschini uomo forte del PD che sorregge questo governo gli risponde sì ma abbiamo ampi margini di peggioramento ecco questa frase è fantastica la Lega dice è stato andato male le cose e quell'altro sai che ti dice ti dice sì ma possiamo peggiorare ancora molto di più insomma quando siamo arrivati al fondo possiamo scavare tanto in realtà le tasse le pagheremo noi e il prezzo di questo favoloso governo che ci avrebbe dovuto mettere d'accordo con l'Europa lo seguiremo nei prossimi lo pagheremo nei prossimi anni nel frattempo vi ricordo a tutti che questa zuppa è prescritta non esiste più in questo momento a mia insaputa c'è qualcuno che sta insultando e sta prescrivendo la zuppa un po' come ha fatto Travaglio quando ha insultato Previti è stato condannato e a sua insaputa gli hanno richiesto la prescrizione veramente fantastico un grande saluto a tutti quanti voi ciao